Del resto stiamo parlando dell'isola d'Escoasse, tanto per capirsi, non è che stiamo parlando di un prato inglese, quindi un'isola comunque che va bonificata, va migliorata. Zaia mette subito i puntini sulle i e lancia il progetto ideato dalla Zamperla. Un'isola che oggi non ha una destinazione e c'è un progetto, c'è un progetto che sicuramente prevede una grande antropizzazione, quindi l'idea di farsi una sorta, qualcuno ha definito Venice Land, ovvero la volontà di farsi un parco giochi con una ruota panoramica. Questa è l'idea di base. Zaia chiede ai Nobel, così li definisce ironicamente, che si battono contro qualsiasi tipo di progetto e che hanno fatto naufragare la torre di Carden, di valutare attentamente la proposta. Io inviterei tutti, anche magari i più conservatori, cioè coloro che comunque vorrebbero Venezia mummificata, coloro che si sono battuti contro la torre di Pierre Carden, di pensare quantomeno di valutare, di non perdere un'ulteriore occasione di valutazione. Poi ovviamente il comune sarà attore in tutta questa partita, i cittadini al fianco del comune, però in maniera molto delicata, sensibile, in punto di piedi, dico almeno valutate. Il governatore ha le idee chiare anche su Inisio Etti, necessario seguire la tradizione e le indicazioni storiche. I veneziani quando ti indicano una strada te la indicano in perfetto veneziano, io stesso quando parlo con il sindaco di Venezia la lingua ufficiale che utilizziamo è il veneto, non è l'italiano. Quindi via le doppie, quindi terra e non terra, e via l'italianizzazione perché non ha nulla a che vedere con la storicità che ha Venezia e quindi con Inisio Etti come sono definiti, ovvero quelle scritte bianche delle vie.